mercoledì 20 partenza da villa san giovanni traghettiamo finalmente arriviamo in sicilia ora attacchiamo l'adesivo dei nostri amici del despa club san giovanni e poi si parte il promoter ha qualcosa da aggiungere il mechanic il mechanic ha qualcosa da aggiungere speriamo per fare i biglietti tra persone e tre motocicli inferiore ai 50 ai 50 il traghetto l'abbiamo preso 20 minuti e poi siamo a messina andiamo direttamente dal sindaco che ci aspetta un po' di più 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 Grazie a tutti. 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 Macchiato di panna. Di schiuma come quando fate il cappuccino. Macchiato di panna in agosto. E poi in panna. Macchiato l'acqua. Tu fai il biscottone. La brioche. No, non sarà Catalina. La brioche classica. Grazie a granito e il biscottone. A Sicilia. Piccola pausa, piccola pausa, foto panoramica, caldo importante. Ci stiamo avvicinando ai giardini in Axos e poi finalmente a darci prezzo. Eravamo in moto, non l'ho letto. Quindi devo venire al parcheggio? Quindi devo venire al parcheggio? la brioche. La brioche. Sì. È la brioche. Sì. 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 Dopodiché. per andare a casa sua lo siete Mario del Caffè degli Artisti lo che fa per il randone più grande d'Italia se ce n'avete tutti il 24 luglio Quindi questa è la piazza di... di Acitrezza Acitrezza Quella è l'isola Lachea Riusciamo a fare una pancettina su Acitrezza? Ma non ho già detto, è vero Acitrezza Ma non ho già detto, è vero